In questa città abbiamo coronato uno dei nostri sogni, forse il più importante. E per raccontarvi qualcosa di noi abbiamo scelto Venezia, perché qui io e Anna ci siamo sposati nel 2010. Ogni volta tornare tra le calle, i ponti, questi palazzi progettati sull'acqua è come tornare a quel giorno. Tutto qui sembra rimasto invariato nel tempo. Ma in realtà, anche quando il tempo sembra fermarsi, c'è un'evoluzione, un cambiamento. Io e Anna ci siamo conosciuti e innamorati grazie a Forever. E da allora insieme siamo cambiati molto, siamo persone migliori, la nostra vita è migliore. Noi siamo molto legati alla nostra famiglia, amiamo trascorrere del tempo con i nostri impoti, con i nostri figli. E vederli sorridere per noi è una grande gioia. Abbiamo cominciato nel 1999. Abbiamo scommesso in qualcosa in cui credevamo profondamente. Anche se non ci conoscevamo entrambi, volevamo essere liberi delle nostre scelte, liberi di vivere le nostre passioni, i padroni delle nostre vite e del nostro tempo. Ci siamo incontrati in un momento in cui avevamo molte cose in comune. Col tempo però abbiamo scoperto che a tenerci insieme sono state le divergenze, il confronto continuo è importante per noi, sia come coppia che come imprenditori di successo. Noi ci completiamo. Io mi occupo più dell'organizzazione e della pianificazione della nostra attività. E invece io mi occupo delle strategie per raggiungere i nostri obiettivi. Infatti, unendo le nostre forze, abbiamo avuto grandi risultati. Abbiamo costruito una grande squadra, un grande team. Infatti, lavorare in gruppo è divertente, faticoso anche, ma dà i suoi frutti. C'è sempre da imparare da chiunque. Noi impariamo anche dall'ultimo arrivato nel team. È proprio come nella nostra famiglia, è scambiarsi continuamente delle impressioni, scegliere delle strategie e fissare degli obiettivi. Noi siamo molto felici delle nostre due famiglie. Noi abbiamo sempre creduto nei nostri sogni e i sogni vanno inseguiti. Non bisogna arrendersi mai. Infatti, noi non ci arrendiamo. Vogliamo proseguire questo percorso, aiutare ancora tante persone grazie a Forever. Sono Anna Massolonardo, sono madre, moglie e sono Diamond Manager. Sono Adelino Bolzonello, sono padre, marito e sono Diamond Manager. Noi siamo Forever!